Ciao a tutti ragazzi, sono Carevis Back, io sono il pro player di Backlick KG e oggi sono qui con il mio compagno Fabio Rabi Ciao ragazzi E ci sfideremo in una sfida, al GESH The National Team in cui ragazzi è una sfida che consiste nell'azzeccare di quale nazionale stiamo parlando solamente vedendo il club dei giocatori quindi ditemi buona fortuna perché sappiamo già che vince la FAB Chiaramente Let's go, partiamo con la prima Portugal Let's go, andiamo per il secondo English Guarda questo ragazzo Oh, è England, England, che è English Fabio Ti dovrebbero dare un punto a me soltanto perché hai detto English No, 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 ho visto Tottenham, Harry Kane Francia No, Brasile No, Francia VAR 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 Italia Eh no, eh, mi spiace Non hai capito, bravo sincero Occhio Karim Spagna, sì, non so perché è venuta Germania Ti giuro, ho visto il portiere dell'Atletico Bilbao e ho detto Io ho visto il dipto e ho detto Stavo collegando con Germania e tutto Poi ho visto gli altri e ho detto Oddio, direi Austria No, Austria, no, non c'è da nulla Allora Norimberga Norvegia Vamo Io guardavo il difensore di Capoli Perché ATT-Aland, ho pensato L'unico attaccante che Olanda? No Argentina? Stryker È vero, è di Maria Germania What? Wow Ciao Ciao Let's go Sei pronto Fabio? Cos'è? Che a questo punto decide tutto Seguro e meno, va bene, dai Va bene Ok, 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 wait, wait, dimmi Let me drink some empty water Olanda Ah mio mio Tutta la vita mio Tutta la vita Allora ragazzi questa sfida è stata vinta chiaramente da me Iscrivetevi al canale E lasciate un like E sono pronto a sfidare Yoshi Per la prossima battaglia Per la prossima